www.fema.it Vitamino e ansiolitici. Ho chiuso l'occhio. Sì. Stanotte a quattro e mezza mi sono alzata e sono uscita a camminare. Parlo da solo come i scemi miei e pure da piangere. Se oggi qua va male puoi vedere che ci troviamo pure per strada. Ma non pensare subito alla catastrofe. Sta tranquilla. Io vorrei capire perché visto che ci tocca decidere non ci stiamo pure noi di là, quei tre pinguini. Ma che fanno te fidi del bianco? Tanto sono tre ore e sto là dentro. E so, tre ore sì, non ci capisci un cazzo di francese. Guarda, la prossima volta ci vai te che sei una signora. Oh mamma mia sto scherzando. Certo che voi impiegate proprio non le capite le battute eh. Prova a dire roba meno stupida e vedi che capisco anch'io. Eh no, c'è una bella differenza tra impiegate e operaio. Ancora questa storia a te eh. Operai e impiegate. Ma qual è sta differenza? No, me lo devi spiegare. Poi, guarda oggi proprio non è aria eh. Perché a me mi pare che siamo tutti nella stessa barca qua. Mi coglioni. Mi ammazzerei. Qua soli a te. Ma sei... Ha! Che... LeitKY